Il prossimo 31 marzo e primo aprile presso il Cineteatro Edoardo di Filippo ad Agropoli si terrà la commedia Ma c'è papà di Peppino e Titina di Filippo. La commedia affronta con brio e divertimento le più classiche delle situazioni del teatro napoletano analizzando con umorismo ma con grande verità e umanità i rapporti fra marito e moglie e fra i membri della famiglia che nonostante tutto dopo incomprensioni e litigi è destinata a ricostruirsi in un finale ottimista e carico di speranza. Voglio invitarvi tutti il 31 marzo ore 20 e 45 e il primo aprile ore 20 e 45 al Cineteatro Edoardo di Filippo di Agropoli per lo spettacolo teatrale della compagnia Il Sipario di Agropoli ma c'è papà di Titina e Peppino di Filippo quindi rimaniamo nella famiglia di Filippo. Un lavoro che noi con molto amore e passione e dedizione dedichiamo al nostro regista Piero Pepe che non c'è più ed è scomparso e per la regia di Massimo Pagano una regia molto 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 garbata. Noi vi aspettiamo abbiamo bisogno di voi ma abbiamo bisogno anche di sorridere tutti quanti insieme noi ci emozioneremo per emozionarvi speriamo che sia così 31 giovedì marzo ore 20 e 45 venerdì primo aprile ore 20 e 45 Cineteatro Edoardo di Filippo di Agropoli ma c'è papà correte 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 ma come state correndo impressionante abbiamo bisogno di voi ciao 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 ciao